Musica Bello a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro gioco Siamo tornati signori di nuovo con il draft Siamo sempre sul Number Foot Draft Challenge Allora, siamo pronti per andare a iniziare ragazzi Oggi ci manca solamente il Number 5 ragazzi Cioè praticamente dobbiamo prendere allenatori, giocatori, riserve Tutto quanto con il numero 5 Quindi tutto quanto quello che sarà sul numero 5 appunto Ed l'abbiamo fatti tutti ragazzi Sono andati tutti comunque molto bene Quindi vi ringrazio Siamo con l'ultimo che è quello del Number 5 E vediamo un attimino il modulo Il 4411 Non è male, vi dico la vita Non è male Vediamo il capitano che corrisponde al numero 5 Lionel Messi Mamma mia che botta di culo Abbiamo subito Lionel Messi signori Andiamo a vedere l'attaccante con il numero 5 Iniziamo alla grande Francesco Totti Anche se non fa intesa Erpupone signori Attenzione Andiamo qui nelle riserve prima Vediamoci le riserve raga Sempre con il numero 5 Abbiamo Zlatan Ibrahimović Mamma mia Anche se c'era Cristiano Ronaldo Ma va benissimo Zlatan Ibrahimović Andiamo Sanchez Madonna mia ragazzi Iniziamo alla grande Iniziamo alla grande Abbiamo anche Hulk Porca miseria Porca miseria Oh c'era Gareth Bale Peccato ci prendiamo parello E andiamo anche con questo qui Vediamo sempre con il numero 5 Henry Kane Sia Ronaldo che Bruschetta Madonna ragazzi Io mo' c'ho l'imbraccio della scelta Per andare a vedere chi mette Andiamo a mettere Gaitan Che noi ovviamente Andiamo subito a sostituire Eventualmente con Sanchez Vediamo un po' Totti Possiamo scambiarlo O con Ibrahimović O con Kane In questo caso mettiamo Kane Semmai Totti lo mettiamo qua ragazzi Vediamo subito A T con il numero 5 Ok Vossen Quindi ci andiamo a mettere Francesco Totti Centrocampista Che corrisponde al numero 5 Abbiamo un Schweinsteiger Altro centrocampista Con il numero 5 Al Jasmine Non mi fa intesa con nessuno Mi sta piacendo questa squadra Sempre con il numero 5 Gaia Number 5 Abbiamo Jardel Mathieu Mathieu ci fa intesa Va bene Terzino destro Dai un bel Informa No Cedric Un bel portiere Un bel Oblak Che ci fa intesa Che bello Peccato c'era sia Belle che Iniesta Va bene lo stesso Dai con i terzini Dammi un bel terzino Porca miseria quanta roba Ma va bene Ci prendiamo Neymar Andiamo anche qui con il Dammi qualcosa di buono I terzini Un difensore Gundogan Difensore Dai 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 Terzino No ma che è Rosalino qua Ma che mi ha dato Forse Curaccio Ci da un altro terzino Ultimo giocatore signori Vediamo che ci va a prendere Un bel tre seghetta Molto molto buono L'allenatore Che corrisponde al numero 5 E ci prendiamo Uno della Bundesliga Quindi non c'entra un cacchio Andiamo a fare proprio Ci andiamo a giocare La nostra prima partita Nel nostro primo avversario E vediamo un po' Come andrà Spediamo bene E ci siamo ragazzi Vediamo subito Il nostro primo avversario Che squadra ci propone Porca miseriaccia Ha un 191 draft Ragazzi Assurdo Ha 4 Toti Ronaldo Marcello Iniesta E messi i Toti A Godin Tots Due men of the match Tra cui Bale E Oblak Porca miseria Ragazzi Qua si fa veramente tosta La sfida Ok Toti Oh Oh Che come cazzo Lei Che tiro hai fatto La No No madonna Che botta Che ha tirato Gareth Bale Ragazzi Ma che missile Ha potuto Sparare proprio Dai 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 Facciamo attenzione Che qua la sfida È molto hard Ragazzi Attenzione Attenzione Prendi sto pallone Porca vacca Dai su Ma mi è stufato Ma mi è stufato Ma mi è stufato Fuori gioco Fuori gioco Dai Messi Dai Lionel Dai che sei Un bel Tots Dai Messi Messi Mamma mia Va a tirare ragazzi Non riesce a buttarla dentro Buono Questo è rigore Tantissimo Franceschino ragazzi Niente cucchiaio Andava a sparare Un missile Sotto l'incrocio Te pensavi che faceva Il cucchiaio Ragazzi Anche perché Se te facevo Il cucchiaio Ma avevi barato Perché vedi Sei rimasto fermo Valedetto Invece no Totti Te va a purgare Va bene così ragazzi Tutta per noi Tutta per noi Si va Si vola Si vola Si vola ancora Lionel Si vola ancora Lionel Ancora Svanchtager Z Mortacci tua Bomba Porco 2-2-0 2-0 Signori Mamma mia Che bella bombetta Di Sanchez Si gira Tutto il tempo Che deve Senza nessun problema Va a segnare Il 2-0 Le Mamma mia Grande Oblak Ancora Messi Per Parelio Parelio Per Lionel Lionel Messi Tu madre Kane Tu zia E tu sorella Bello Come ce ne siamo andati Bello Come ce ne siamo andati Arca miseria Eccolo qua Ma mazza che botta Porco Giuda Potevo sognare sicuramente con il gol della merda Però va bene Ancora per Franceschino Per Franceschino Che era da solo Soletto Ancora Francesco Ancora Francesco Ancora lui Che viene deviata Ma tanto Mi sa che andava fuori O comunque Era una cacata Era Bello Sveinsteiga Ancora Sveinsteiga Bomba Madonna mia Goal Mamma mia Che azione Con quanta cattiveria Sta prima partita Raga Con quanta cattiveria Sta prima partita E andiamo a vincere Questa prima partita Ragazzi Contro una squadra Vi ricordo Con quattro Toti Due Man of the Mesh Veramente Cagliardi E altri giocatori Che oso dire Eccezionali Ma anche noi Ragazzi Abbiamo una squadra Bella Ed eccoci qua ragazzi Con il secondo avversario Che ci mostra Una squadra Arvi poco Bella Ci ha anche messi In biondo Ragazzi Quindi ci ha pure più Un cazzato di sempre Oh Ma sai che fallo Quello Arca puttazzola Che secondino Non si è visto Porco due Che cecchinata Aveva il malino Nel Messi Ragazzi Va bene Va bene Non es problemos Guarda Totti Che te fa Orca miseria Regà Due gol A distanza Di Trenta secondi Neanche Buono Ancora per Totti Totti Di pallonetto Mamma mia Francesco Ragazzi Erpupone Mamma mia Francesco Di pallonetto Signori Dovete partire Fuori dei pali Totti Boom Un pallonetto Bellissimo Soddisfattissimo Di questa goal Ragazzi Veramente Veramente Soddisfattissimo Bello Bello Ragazzi Va a segnare Il due pari Giocherino Bello mio Non mi incuni Facilmente Si gioca Fino alla fine Guardalo Ancora Totti Ancora Totti Ancora Totti Madonna mia Senti come si incazza Sotto Questo è belga O il tedesco E si sta incazzando Tantissimo E io Taccata il cazzo Io De puta Buono Ancora Ken Che non ci arriva Porca vacca Mi si piaccia Com'è bella La cucaraccia E dai 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 Voi lo fa Un altro pallonetto Ragazzi ho sbagliato Perché Lo dovevo immaginare Che lo facevo uscire un po' E poi lo ritrava dentro Proprio così Però mi sa che E' ora che faccio qualche cambio Ragazzi Perché qua Li sento stanchi Li sento stanchi Specialmente Totti Proprio Gna Fa più Ragazzi Stacca Totti Sta dentro Una carrozzella Fermi un attimo Zladan Non ci credo Non ci credo Zladan Eh Ashman Ashman Cazzo Incazzi Stavi per Partita Bello Ibra Buono Che rimpalla Così 3 a 2 Chi Di Che Se Non si sente Benissimo Ragazzi Non so se lo sentite bene Ma io mi stavo ammazzando E risale Io mi stavo Questo l'abbiamo preso Questo l'abbiamo preso L'ho vista dal movimento che ha fatto Il giocatore che ha fatto Un movimento tutto strena Ma i falli Non esistono dalla parte vostra Ha rotto il cazzo Calcio di rigori Ma con questo regà Io sto video voglio 30.000 like Perché sto ammazzando e risate con questo Ma assolutamente Bello Senti come si è incazza Senti come si è incazza Buono 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 Mortacci tua Perché l'ho pure indovinato No Sentilo Questo scendere troppo Questo fa a morire Madonna che tiro Non riesco a pararlo più Mi sta a far morire Buono Bravo 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 Ronaldo Eh Non si è buttato Beh Ragazzi Lo giuro Ragazzi Ragazzi Ho perso i rigori Bene Un video A dir poco Epico Ragazzi Veramente qualcosa di spettacolare Signori Signori Purtroppo Abbiamo perso Ma un giro Non ho mai riso così tanto Abbiamo fatto 600.000 crediti Perché ho venduto un sacco di giocatori Ma semmai vi faccio pure vedere quello che ho venduto Però Ragazzi Lo giuro A ripensarci questo Ma ha fatto morire Questi sono i pacchetti che ci hanno regalato Grazie Gentilissimi Ci la apriamo subito Li schippiamo Perfetto Non ci capita niente Al primo pacchetto Comunque signori Io spero che questo appuntamento Vi sia piaciuto È stato qualcosa di spettacolare Tutti i social Li trovate qua sotto In descrizione Come Instagram Pagina Facebook E lo shop online Chi più ne è più ne metta Io ovviamente Spero che vi adate apprezzato questo video Perché è stato qualcosa di spettacolare Al prossimo appuntamento Con il vostro Giocherino Scuola Giagher Signori Che purtroppo Anzi Fate una cosa Nel qua sotto Oppure andate Nel video di oggi Delle 14 Che ho portato Un pacco opening Forse potrebbe essere l'ultimo Forse no Questi sono gli giocatori Che io sono andato a vendere Tanto raga Un po' me li sono tolti Che mi serviva un po' di credit Vedete Eccoli qua Abbiamo venduto Pogba Oda Mendy Buffon Benarfa Un po' di robetta Ce la siamo tolta dalle scatole Almeno Ci siamo fatti un po' di credit Ciao signori